Chiederei se ci sono interventi su questa... Sì, consigliere Lava, grazie. Grazie. Questa delibera sull'assestamento di bilancio l'abbiamo analizzata in commissione. Io vorrei qui approfittare dell'intervento per chiedere all'assessore, al presidente della commissione, al sindaco che non c'è, visto che stiamo parlando di bilancio, di spiegare però, se è possibile, intanto perché quest'anno siamo alla fine di novembre e non si vede ancora il bilancio del prossimo anno. Mi rendo conto che non è materia di questa delibera, però ne abbiamo anche parlato in commissione. Credo che sia opportuno mettere al corrente il Consiglio dei motivi per i quali quest'anno, forse dopo tantissimi anni, non so se per la prima volta nella storia di Collegno, il bilancio non verrà approvato entro la fine dell'anno. E mentre magari ci si spiega questo, vorrei anche capire se, vista la situazione economica congiunturale in cui ci troviamo, se anche a Collegno un po' di quello spirito che anima il Governo nazionale e chi lo sostiene, se anche a Collegno è possibile entrare nel merito delle scelte magari più o meno dolorose, io non lo so, che si dovranno fare per il prossimo anno, meno servizi, più tasse, non so, mi sembra che si possa riassumere un po', questa è un po' l'aspettativa, se è possibile poter affrontare questi argomenti prima che i giochi siano fatti. Perché la consuetudine in questo Comune è che poi ci arriva il malloppo del bilancio una settimana dieci giorni prima del Consiglio si fa una commissione veloce e ovviamente almeno i consiglieri di opposizione, non so quando i consiglieri di maggioranza, non si ha il tempo e il modo di entrare nel merito delle scelte che vengono fatte. detto questo vorrei però anche approfittare del non so quanto tempo ho ancora a disposizione 7 minuti bene allora dopo aver fatto questa come dire petizione di affetto rispetto alla maggioranza e all'amministrazione di coinvolgerci nelle decisioni che devono e beh non era questo che mi chiedevi Cappadonia vorrei però entrare nel merito nel merito di qualcosa che in questo bilancio questa delibera c'era e non c'è più almeno credo credo dopo la discussione che c'è stata in commissione perché per i consiglieri che non erano in commissione è stato stracciato credo una variazione una di spesa di 35.000 euro destinata a un incarico professionale per la progettazione per un progetto preliminare per la piscina ora io vorrei ripetere qui quello che ho già detto in commissione e cioè innanzitutto che si debba fare una nuova piscina con legno per quanto mi riguarda è stata una sorpresa una novità anche se è vero che c'è scritto nel programma della maggioranza ma quello che non c'è scritto nel programma della maggioranza sono le modalità con le quali questo progetto di piscina va a realizzarsi allora mi pare che grazie ai consiglieri di maggioranza non certo per merito mio quello stanziamento di 35.000 euro è stato stracciato poi mi piacerebbe capire dove sono stati messi ma io vorrei approfittare perché poi dopo la discussione nella commissione ho provato il mio vizio quello di andare un po' a scavare vizio di giornalista no di andare a scavare per cercare di capire che cosa bolliva o bolle sulla questione della piscina e le cose che ho saputo non mi hanno certo rallegrato ecco soprattutto c'è stata una cosa che che non so sempre col beneficio di inventario perché ovviamente nulla è ufficiale ho saputo che pare ci sia l'intenzione di costruire questa nuova piscina fin qui c'eravamo arrivati ma anche l'utilizzo dell'area dove si trova la vecchia piscina io non so io spero di essere smentito ma pare che ci fosse l'intenzione di costruirci un bel palazzo per integrare non so che cosa allora io chiedo scusa se effettivamente la discussione mi porta cioè il mio ragionamento mi porta su su altri terreni ma io vorrei chiedere ai consiglieri di maggioranza all'amministrazione di Collegno se sono pronti o no a fare il salto di qualità che li porti a non utilizzare più il territorio come merce di scambio perché a Collegno questo è stato fatto troppo fino adesso se ne è abusato e io credo che le centinaia di persone che in questi giorni ho incontrato e che firmano la petizione per il campo volo assolutamente non ne vogliano più sentir parlare allora io vorrei essere tranquillizzato io credo che mi sembra davvero difficile che i partiti di maggioranza che pure sostengono delle sostengono delle idee condivisibili a livello nazionale sull'uso del territorio poi nel piccolo debbano continuare con questo sistema per cui tu dai una cosa qua e noi ti diamo in cambio territorio come se il territorio appunto fosse una merce io credo che il tempo del territorio come merce sia davvero finito allora vorrei capire se la pensano così anche quelli che si siedono dall'altra parte oppure no quindi chiedo scusa se ho approfittato di di questa mancata destinazione di fondi per mettere il dito nella piaga allora è così mi hanno raccontato delle cucche oppure davvero si sta pensando a costruire un bel palazzone anche laddove oggi c'è la piscina cioè se non è così vuol dire che mi hanno dato un'informazione sbagliata capita spesso che mi diano delle informazioni qualche polpetta avvelenata ma se invece è così vorrei che questa cosa fosse smentita qui e ora grazie